buongiorno youtube nonostante questo caldo ottundente ho deciso di provare a registrare un video al chiuso con un nobile scopo mi è venuta una delle mie malsane idee di fare i raffronti su alcuni tabacchi trovate queste peripezie in cui mi sono già cimentato in passato video vecchissimi sulle english mixture balkan ma uno recente secondo me è più valido riguarda i quattro tabacchi della serie kendall major series di samuel gewitt oggi invece analizziamo i tabacchi cosiddetti naturali cerco di spiegare brevemente cosa sono poi quali sono non tutti perché la mia conoscenza non è infinita e cerchiamo di metterne quattro a confronto dunque i tabacchi cosiddetti naturali sono quelli diciamo a filiera corta cioè quei tabacchi di solito autoctoni o comunque coltivati curati e poi prodotti nella nella nazione in cui viviamo quindi filiera corta perché interrompe intercorre scusate meno tempo e meno spazio dalla dalla semina al raccolto alla cura alla concia la cura e all'impacchettamento dei di questi tabacchi in italia abbiamo il famoso trittico di trinciati nazionali che sono il l'italia il comune e il forte poi c'è anche il golf allegro che però non ho mai provato allora vi parlo innanzitutto visto che su questo canale non ne ho mai parlato del mio rapporto con questi tabacchi e già parlando di rapporto ve ne citerò soltanto due perché soltanto con questi due ho un rapporto degno di essere chiamato rapporto e sono l'italia e il forte il comune l'ho fumato diverse volte ma rappresenta per me troppo una via di mezzo l'ho usato ho provato più volte a fumarlo ma poi sono finito ad usarlo spesso come condimento in abbinamento alla tachia non che questi altri due non si prestino a questo scopo quindi a essere tabacchi di condimento però oltre a questo hanno secondo me un senso anche fumati da soli allora l'italia come starete vedendo in questo fumato che vi monto dell'italia ne ho sempre una almeno un 50 60 grammi in questo grande vaso con chiusura ermetica che vedete qui nel video che proprio in questo momento sto rimpinguando con una busta nuova allora non ne compro mai più di due buste all'anno che nel tempo durante l'anno o anche anno e mezzo fumo e vado sempre a rimpinguarla e a inserirla in questo sempre in questo stesso mega barattolo gigante quindi è un tabacco che mi sta lì tanto tempo ogni tanto lo riumidifico questa busta con cui sto rimpinguando è effettivamente molto molto secca ma dopo vi farò vedere anche un procedimento di umidificazione e quindi il mio rapporto è sostanzialmente questo quando non so bene cosa fumare o quando proprio mi sento il bisogno di un tipo di fumata semplice disimpegnata un po rustica perché comunque l'italia ha dei è un blend di tabacchi virginia e kentucky italiani quindi gli stessi utilizzati per i nostri sigari italiani di mst ovviamente e allora è un tabacco che nominavo anche nel video fatto sul caporal scafferlati infatti paragoneremo anche con con lo scafferlati nella seconda parte di questo video per non farlo troppo lungo lo faremo diviso in due parti quindi quando vado quando lo paragonai a in quel video dello scafferlati caporal andate a vederlo se non l'avete visto dicevo che l'italia era un tabacco più movimentato secondo me giusto per dare credito alle mie parole sono andato poi a rifumarlo a prendere una busta a fumarlo ancora a rendere più vivi i miei ricordi che avevo con questo tabacco e effettivamente sono d'accordo per certi versi per altri no l'ho trovato un tabacco forse quest'ultima busta che ho preso un po' meno vivace di come lo ricordavo comunque con una evoluzione minima c'è ecco dicevo in quel video che consideravo forse meglio l'italia no direi che il caporal per certe caratteristiche l'italia ok è più regula è più irregular è anche più basso il contenuto di nicotina ma il caporal rimane decisamente più movimentato come evoluzione e come sapori in ogni caso non è un tabacco secondo me da denigrare da cestinare come in tanti dicono anzi è un tabacco che più lo si approfondisce l'italia sto parlando più ci si affeziona ecco il kentaki si sente il virginia si sente non è secondo me di una qualità ottima ci correvano voci che c'erano anche degli orientali non c'erano non lo so se ci sono non ci sono a delle volte si sente una leggera nota un po vanigliata o comunque un pochettino dolce che va anche a mescolarsi con un qualche cosa di fruttato anche annusandolo così dal barattolo si percepisce questa nota un pochettino fruttata o comunque dolce che va a mischiarsi con i profumi al naso e anche con i sapori di cuoio leggermente di stallatico del kentaki è un tabacco che sicuramente va benissimo per iniziare perché comunque non è cioè è facilissimo da fumare facile da caricare perché comunque tende sempre al secco anche quando voi l'umidificate è un tabacco comunque tendenzialmente secco quindi a patto che non scaldiate troppo la pipa facendo boccate troppo rapide è un tabacco che brucia bene e che non vi dà troppi pensieri è facilissimo da reperire quindi è consigliato sicuramente a chi inizia e ovviamente per gustarne a pieno cioè ecco all'inizio potrebbe sembrare un tabacco che sa di poco in realtà più lo si conosce più più gli si trova un'identità ecco il forte invece che è questo qui vi faccio vedere anche l'apertura del forte questa è una busta che recentemente ho comprato che ho messo qui in questo barattolo il mio rapporto con il forte è più sporadico rispetto all'italia ne ho comprate in questi 8-10 anni 5-6-7 buste ecco meno di 10 buste ecco questo mi viene da dire nei miei ricordi turbidi è un tabacco che delle volte l'ho trovato di una forza veramente brutale cioè troppo forte quest'ultima busta che ho preso sarà che è un po più umido non ho avuto bisogno di riumidificarlo ma l'ho trovato morbido e umido non l'ho trovato nemmeno così aggressivo è meno vivace come evoluzione rispetto all'italia ma ha dei sapori più decisi cioè qui c'è indubbiamente stallatico cuoio e ha una forza nicotinica maggiore quindi forte di nome e di fatto che si traduce per me che come sapete sono un po' una mezza sega da metà fornello in avanti c'è una sensazione di appagamento allo stomaco e di pesantezza allo stomaco che però mai nel mio caso si è trasformata poi in una sensazione di malessere di mal di testa o di nausea caratteristiche della tipica botta nicotinica ecco questo non mi è mai successo forse perché comunque ho l'accortezza di fumarlo sempre in pipe piccole distanziando le boccate e cose del genere però per dire che ho trovato dei tabacchi più forti ad esempio il 3p di peterson il peterson perfect plug che vedete là nell'angolino quello lì verde e altri tabacchi ad esempio di gay with hogarth così li ho trovati decisamente più forti i gusti sono più intensi appunto vi dicevo quelli stallatico quindi cuoio ma anche più sono più intensi e più ristretti ecco ho notato che tende un pochettino a stancare appunto per questa a questa punta di sapore forte di kentaki che delle volte lascia un rimando anche non so di cacao e di tostatura ma in basso questo quando si aspira le prime note che saltano alla bocca e poi in realtà lascia la bocca abbastanza secca e con pervasa da sapori abbastanza piatti è fatto il forte è ottenuto il trinciato forte con foglie apicali della pianta quindi sono quelle più alte correggetemi se sbaglio se dico cazzate ma dovrebbero essere le foglie più alte più piccole e più alte del tabacco i profumi a crudo sono quelli che vi descrivevo in fumata quindi legno cuoio stallatico e basta è anche questa nota tostata che con un po di suggestione può arrivare al cacao ma ora sto fumando sono in realtà alla fine per quello che faccio fatica ad accendere sto fumando in realtà un altro tabacco naturale il semois di manil di vincent manil un altro tabacco naturale quindi con pochi trattamenti senza trattamenti a filiera corta ma in questo caso non italiano si parla del semois belga quindi tabacco di seme barley però autoctono cresciuto ormai da cresciuto che cresce e viene coltivato ormai da anni nella valle del fiume semois in belgio quindi questo barley prende dal terreno e grazie alla particolare cura che fanno soltanto lì in quella regione in quella zona in quella nazione prende delle caratteristiche organolettiche tutte sue e lo fanno un tabacco sempre a filiera corta sempre naturale ma molto diverso pur avendo alcune similitudini col nostro italia il nostro comune e il nostro forte alla fine vedo che sto nei tempi quindi non divideremo questo video in due i profumi a crudo del semois sono molto più intensi quindi c'è sempre una nota erbacea di fieno erba secca di stallatico di pellame di cuoio un po più debole molto però più più spiccata questa nota agreste questa nota naturale e anche infumata era un tabacco decisamente più secco con dei sapori più accentuati pur non avendo una forza nicotinica elevata il che lo rende un eccellente tabacco da tutti i giorni secondo me da tutto il giorno lo si può mettere in busta in borsa anche così senza che per forza resti umido e tutto perché comunque è un tabacco che va messo nel fornello così com'è tutti questi di cui sto parlando se premuti di più nel fornello della pipa regalano più soddisfazione perché sono secchi tabacchi secchi si possono premere di più quelli umidi di meno altrimenti non bruciano il mio intento non è dire quale meglio quale peggio sicuramente il semo a belga è quello più connotato ecco quello più forse anche perché è difficile da recuperare non lo si riesce a fumare tanto e tutto l'anno quindi ha questo fascino in più dato appunto dall'esoticità del della della miscela però effettivamente arriva a sprigionare in bocca anche dei sapori che vanno un po' alla liquirizia la liquirizia la pianta che trovate in giro se voi la prendete l'annusate che è diversa dalla liquirizia la caramella alla liquirizia ecco questa liquirizia così naturale della pianta il profumo lo sentite anche in questo tabacco e ovviamente il sapore rimanda ha quell'odore e quindi si può dire che che la suggestione è quella è quella della liquirizia e ha un forte odore anche di di stallatico di di stalla eccoli di natura di appunto di ambienti di contadini e di fa pensare veramente molto più che l'italia è il comune a un ambiente naturale e viene voglia di fumarlo in un contesto naturale è un tabacco piacevolissimo che io fumo sempre molto molto volentieri e mi dà sempre grandi soddisfazioni pur rimanendo in un range di evoluzioni comunque medio bassa non è un tabacco che cambierà tantissimo che vi sconvolgerà la vita dandovi dei sapori che non vi immaginavate però diciamo che la prima volta che lo provate se è la prima volta che fumate questo tipo questa tipologia di naturale sicuramente rimarrete colpiti veniamo a ciò che rimane della seconda busta del caporal scafferlatti che vi ho già recensito trovate qui il video sul canale cercate nelle playlist tabacchi naturali ho messo tutto nella playlist tabacchi naturali e appunto veniamo a questo caporal scafferlatti beh per le notizie quelle più più tecniche e la recensione completa andate a vedervi il video io qui ve lo propongo in relazione a questi allora di certo quello pur essendo simile a tutti gli altri tre tabacchi nominati mi viene da pensare a sentendone i profumi che quello a cui si avvicina di più è il il semoa il semoa in questo caso era quello di vincent manil perché perché come si può vedere adesso non so sicuramente nel video dove l'ho recensito vi farò vedere anche un'immagine più dettagliata si trova dentro anche delle foglioline piccoline verdi non quasi verdi si marrone però con una certa quantità di pigmento verde adesso questa qui non è una delle più verdi però è la più grossa decisamente la più grossa quindi vedete che ha questi questa colorazione più verdogna quando bruciano queste foglie queste enorme ma le altre sono tutte piccoline si sente veramente un sapore speziato di pelle di cuoio anche qui comunque stallatico però sembra quasi che bruci una foglia effettivamente verde e sale questo questo profumo dal fornello che va nel naso quindi è comunque un aroma percepito fa parte dell'esperienza fumo tutta e ti fa proprio pensare a un qualcosa di speziato a un'erba anche officinale ecco rosmarino salvia ecco ha dei rimandi a queste a queste cose qui unito a una forza nicotinica medio che può che può tendere all'alto però anche questo qui non è un tabacco che ti stende e lo rende secondo me per questo anno di fumate il il più piacevole forse un pelo sotto al al semoa manil lo rende ecco il più tra i più piacevoli che ho fumato quest'anno riassumendo potremmo dire che il forte è quando avete proprio bisogno di un tabacco appagante che vi restituisca un sapore deciso e quello diciamo più simile anche se comunque c'è una bella differenza a quello dei sigari italiani ecco se siete dei toscanofili vi piacciono i sigari di kentaki questo è uno dei prodotti che abbiamo in italia più simile questo e le cimette di mastro tornabuoni sono dovete raccomandare l'anima al alla vostra divinità perché sono veramente forti soprattutto fumate così secche da sole in pipa avrete da avrete da fare degli scongiuri ecco l'italia è se fumate al mattino se fumate più più volte al giorno fumate spesso avete bisogno di un tabacco neutro regular che vi tenga compagnia l'italia fa al caso vostro non snobbatelo ma in generale non snobbate niente provate le cose perché ognuno di noi è diverso e quindi possono potete trovare delle sorprese in tabacchi inaspettati dicevo non snobbatelo perché se gli date un po di tempo un po di pazienza scoprirete sempre di più che potrebbe essere un compagno gradevole per le vostre fumate il semoa belga se lo trovate se avete occasione con qualcuno va all'estero o che ve lo può portare se voi andate a soggiornare ricordate che quelli originali con i trattamenti giusti sono due sono il martin e il manil se non sbaglio adesso scusatemi se dico castronerie so che ci sono in vendita anche altri tabacchi a nome semoa che però non ne hanno in pieno le caratteristiche e l'autenticità il caporal l'ultimo che manca è arrivato in italia costa 9 euro e 50 la busta direi che anche questo qui dovete assolutamente però assolutamente provarlo se vi piacciono i naturali o se volete avvicinarvi a questa tecnologia di tabacchi l'italia costa 4 euro vabbè facciamo una media di 5 euro l'italia 5 euro il il forte 9 euro lo scafferlatti il manil questo me l'ha regalato un carissimo amico comunque non ha un costo elevato neanche il manil e basta questo è quello che mi sentivo di dirvi sui tabacchi naturali le caratteristiche comuni sono quelle che vi ho elencato ognuno per ognuno quindi filiera corta tabacchi semplici contadini tabacchi soddisfacenti quasi tutti come nicotina chi più chi meno tabacchi appunto secchi da premere in pipa da caricare in pannocchia da caricare dove volete in radica a ecco sì il semoa lo fumai l'anno scorso e due anni fa piacevolmente anche in schiuma il caporal anche lo fumato in schiuma è molto buono anche in pannocchia il forte per chi non sopporta tanto la nicotina fumato in schiuma risulta un pochettino più gentile vi faccio vedere il sistema di umidificazione del tabacco italia tramite il coccio la pietrina che vendono nei tabaccai o che potrete sostituire con un coccio di vaso il più pulito possibile o comunque lavatelo vi faccio vedere per l'occasione ho umidificato l'italia prima di metterlo nel bormiolone vi faccio vedere anche a voi come si fa semplicissimo ma ve lo faccio vedere questa è la famosa pietrina di coccio che trovate nei tabaccai a 2 euro 3 euro adesso non ricordo la immergete in un vasetto con acqua il più pura possibile insomma ma non state lì a farvi troppe paranoie la lasciate io la lascio un minuto due minuti che poi se mi sfugge il tempo anche tre minuti o cinque non state ad angosciarvi poi la togliete la asciugate diciamo bene ma non non benissimo ecco togliete il grosso e la mettete nel nel vasetto seppellendola un pochettino e avendo l'accortezza dopo qualche ora magari di cambiargli la posizione ho dimenticato di dirvi che sto fumando una fantastica savinelli deluxe a quattro cifre è la 8001 marchiata savinelli deluxe milano 8001 sotto l'ho presa a 9 euro mercatino dell'usato l'ho sistemata una settimana fa ho pulito la testa con spazzolino quasi secco e sapone di marsiglia l'ho spazzolata tutta pulito rim scrostato l'interno con l'alesatore apposta l'ho lucidata la testa con cera di carnauba il bocchino gli ho passato come al solito anche lì trovate un video dove vi faccio vedere ma in questo caso mi sono un po evoluto ho comprato anche i pad quelli quadrati che sostituiscono le carte abrasive praticamente vanno dalla sono sei pad che vanno dal 1500 di grana al 16.000 il risultato è praticamente un bocchino lo vedete da quanto è lucido un bocchino appena uscito dalla fabbrica cioè adesso tenete conto che la sto fumando da una settimana quasi ininterrottamente però vedete che l'effetto è anche abbastanza duraturo e soprattutto il bocchino è nero e molto molto lucido è veramente un bel missilino pipa piccolina leggerissima affilata e spenta mi correggo accesa basta questa è la mia esperienza con i naturali fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate mettete mi piace iscrivetevi se non siete ancora iscritti e ci vediamo al prossimo video da moreno ciao